che dorme io non sto dormendo ma come ma se russavi fortissimo no non è vero non stavo dormendo e niente meno stavo russando e per essere precisi io in questo momento non dovrei proprio dormire ma perché non puoi dormire se hai sonno oggi è un appuntamento molto importante con skype ci dobbiamo vedere molto presto e per questo io non posso assolutamente dormire hai capito? ho capito arrivo subito non devo dormire oh Oh oh. Oh oh. ma chi sta dormendo io non stavo dormendo ecco qua ti ho portato una sveglia così puoi svegliarti sempre in tempo una sveglia è la prima volta che ne sento parlare a che ora ti devi svegliare impostiamo la sveglia 8 8 8 8 ti ho detto bisogna impostarla manualmente guarda benissimo la lancetta della sveglia sta sendo merosso questo significa che ti sveglierai puntuale grazie Chase sei un vero amico prendi delle caramelle grazie bufana buonanotte buonanotte sono già le 8 sono le 8 grazie mille spegniti spegniti ma come si fa a spegnerti basta spegniti ma perché non ti spegni ho capito mi sono svegliata non è possibile non ce ne faccio più ehi Befana ma che fagazzo perché non spegni la sveglia Befana la sveglia è funzionato ma la devi anche spegnere ecco qua tieni spegnila tu questa macchina infernale ecco fatto Befana grazie Chase adesso devo scappare Sky mi sta aspettando scopa vieni 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 dalla tua Befana ciao ciao Befana Sky eccomi qua hai visto sono puntuale perfetto Befana allora mettiamoci in viaggio Befana seguimi Sky sto arrivando e raggiungi Befana e tu come fai ad alzarti presto la mattina che ti sveglia ciao 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 ciao